Mele Cotogne Buona eh Boh Il collega alle 5 sei libero oggi pomeriggio Eh oggi si Allora vieni a casa mia, mi dai una mano Mi piacere perchè A disposizione, che devo fare? Sto scrivendo un libro su me stesso Ma io che c'entro? E' arrivata la spalla, non riesco a scrivere Difficile Vabbè no vabbè Mi metto io, non ci vuole niente Vabbè ti aiuto io da